La natura che libra dalle costrizioni, che accoglie e pacifica, Armani con la sua emporio racconta questo spirito nuovo e consolatorio portando in passerella l'immagine di cavalli al galoppo su una spiaggia deserta e la libertà si respira nell'attitudine, con pantaloni morbidi allacciati alla caviglia, le camicie aperte, le giacche over, cappelli di paglie e bermuda di pelle e quei colori che sembrano davvero consumati dal sole e dalla vita all'aria aperta, dal giallo del grano ai toni della sabbia. Le borse ricordano le bisacce da campagna e in chiusura tutto vira ai toni della lavanda, filo conduttore, la gioia. Ed è ancora la gioia guidare la mano di Massimo Giorgetti per la sua MSGM, con un omaggio al mare ma anche al percorso che è stato capace di costruire in questi 15 anni di moda, partendo dalla sua Romagna dove è ancora al mare a dettare le regole di vita. E festeggiando questo compleanno porta i suoi segni più amati in passerella, dall'uso dell'energia del colore ai grafismi e a quella sua casa sugli scogli, un'ex vedetta della prima guerra mondiale, perfetta per scrutare orizzonti e futuro. Io l'ho messa a simbolo di un momento nostro di osservazione dello stato attuale delle cose, del futuro e anche un momento di riflessione, cioè da live di tutto.